Un uomo estetico, asmatico, linfatico, cosmetico, amo la libia, la fibbia, delle scarpine, delle donnine cretine, sono disinvolto, raccolto, assolto per inesistenza di reato. Ho una speciale predilezione per la fanciulla del vestito, il polo nord e la carta moschicida. Ma tutto ciò che sono non ve lo posso dire, a dirlo non son buono, mi proverò a cantare. Sono un uomo grazioso bello, sono Fortunello, sono un uomo arbite sano, sono un aeroplano, sono un uomo assetterribile, sono indirigibile, sono un uomo che va dal polmine, sono un parapolmine, sono un uomo senza nei, sono il 26, sono un uomo eccezionale, sono un figlio naturale, sono un della riserva, sono il figlio della serva, sono un uomo senza moria, sono il cappello e con la cicoria, sono un uomo ginegetico, sono un colpo apopletico, sono un sapalese, sono un eschimese, sono un uomo eccezionale, sono un uomo senza coda, sono una pagoda, sono un uomo che pesa un gramma, sono un radio telegramma, sono un uomo di Stambul, sono un parasol, se non mi capite, sono una polmonite, sono un uomo condiscendente, sono un accidente. Sono un uomo della riga, sono un uomo di Stamul, se non mi capite, sono un uomo di Stamul, se non mi capite, è un uomo di Stamul, se non mi capite, è un uomo a cantare. Ehi! Quindi sennò il tempo necessario per trasformarmi e concluderò con Nerone.